buongiorno è ora di fare i calcioppini sott'olio adesso io ho preso un po di queste un po più grosse perché ancora non ho trovato i piccolini vi faccio vedere come faccio pulisco finché non vedo che bello tenero taglio fino qui alla parte bianca ecco già abbastanza non è tenerissimo però poi faccio questo lavoro qui le pulisco così tolgo questo brutto di sotto questo qui che è stato tagliato poco fa faccio questo lavoro qui vedo che non hanno molta non hanno tanta barba ancora questi perché sono un po tenerine però questo questo pezzettino qui sono coreace non sono belle da da mangiare poi lo tolgo faccio questo lavoro così qui c'è l'acqua acidola di col limone dentro e poi per metterli via faccio questo lavoro qui taglia fette le taglia fettine così ecco qui e questi sono si possono fare anche queste un po più grandine se trovate quelle le mammoline piccoline cioè quei carciofi che sono adesso piccoline e quelle si fanno lo stesso pulite sotto così come faccio io si possono fare in quattro oppure interi e questi carciofi qui quanto ho finito di farli tutti metto ad esempio ho fatto 30 carciofi ne sono venuti così perché dentro c'hanno buon sette di aceto bianco vino bianco in parte uguale una manciatina di pe nero in crane e un po di sale quanto basta vi regolate a secondo della bagna che avete mettete la quantità di sale quando bolle questa bagna qui di aceto e vino si prendono queste scolate così senza asciugate senza niente si prendono così vedete che sono bianche sono bianche ancora no ecco nella bagna che si fanno tra aceto e vino ricordatevi sempre di mettere mezzo limone su su quella quantità che ho detto io perché devono venire bianche di fatti che vedete che sono bianchissimi venuti quanto bolle la bagna si tuffano i carciofini dentro si fa stare dieci minuti mescolate mescolando che cuocino anche quelle che sono sopra le scolate le mettete asciugare due tre ore su un cannovaccio che così assorbono tutta l'acqua che hanno dentro poi le fate le contite con origano io contisco con origano olio vedete voi l'olio che preferite mettere dentro e poi a sopra sopra metto uno spicchietto d'aglio se volete mettere una foglia d'alloro le lo mettete fate i vasetti riempite di olio le lasciate cercate di sistemare bene come si vede nelle vasetti senza fare tanta aria all'interno come si vedono sembrano quelle che ventano vedete po le tenete lì una notte e domani vedete se sono coperte di olio le chiudete ermeticamente le portate giù in dispensa e questi sono i cacciofini sott'olio non c'è mica tanto traffico da fare certo non bisogna saperne fare vi ho spiegato bene penso adesso continuo a farne ancora qualcuno allora vi saluto ciao ciao a tutti ciao e continuate a seguirci grazie